Conociamo la Sagra della Trota, denominata Trototorm, signori, Trot, East, Skagit, Orchestra! Se lo buttiamo l'applauso a queste persone! Allora, vi voglio vedere tutti quanti qua sotto, noi siamo la notizia da orchestra! Orchestra, e questo qui è un momento degli Scatolets, si chiama Freedom Sound! Allora, vi voglio vedere! 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 Allora! Allora, vi voglio vedere! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo era il nostro tributo agli Scatalites, c'era Freedom Sound e questa si chiamava Ganso Benavarone. Adesso volevamo tornare un po' più indietro nel tempo, ma non proprio di molto. Ha uno dei più grandi successi del jazz, il nome è Dave Brabeck, non so se vi dice qualcosa, Take 5. Qualcuno lo conosce Take 5? Nel nostro caso è Take 4, questo è un pezzo molto famoso e noi lo interpretiamo così. Grazie. 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 Perdonatemi perché sono un po' emozionato. Vorrei fare un bel applauso perché è il primo concerto che facciamo e veramente non ci aspettavamo che vi piacesse così tanto. Grazie. Grazie. Questa era Take Five. Adesso facciamo un pezzo di Glenn Miller e vogliamo, abbiamo una sorpresa perché questo pezzo si intitola Perfidia e lo canterà la nostra Rosa. Vedo poca gente qua davanti però, vedo tanti gruppetti che si avvicinano piano piano ogni volta che vi c'è il cantore, indetreggono, venite avanti gioveni dove siete, non vedo nessuno ancora, venite più avanti, dai, Perfidia. Grazie. 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 a questo punto vorrei dire veramente grazie all'organizzazione e a chi ci ha fatto suonare qui, quindi grazie a tutto lo staff. Purtroppo il nostro tempo non è moltissimo, quindi noi vi volevamo salutare con quest'ultimo pezzo di Herbie Hancock, credo che lo conoscerete quasi tutti, spero. Questo è Watermelon Man. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.